bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video siccome è iniziato x factor da poco oggi vi voglio parlare di 10 curiosità su uno dei giudici ovvero alvaro soler non si separa mai dalla sua chitarra il suo piatto preferito è la rossa alla cubana si tratta di riso bianco salsa di pomodoro con uovo e platano fritto oltre alla musica tra i suoi interessi c'è il disegno a mano libera e tecnico tanto da essersi iscritto a una scuola di design è anche un maestro nel fai da te alvaro dalla faccia acqua e sapone ed è scritto dai suoi docenti come un alunno carismatico educato e motivato si è avvicinato alla musica con il fratello con il quale ha formato la band urban lights le 13 canzoni contenute in eterno agosto sono tutte scritte da lui parlo delle mie esperienze personali e di quello della mia famiglia di amore e tanto altro ha commentato da bambino sognava di diventare un designer di automobili o un pilota da corsa ha trovato il ritmo di il mismo sol battendo un cucchiaio su un bicchiere ad ora emma marrone ha cominciato a scrivere per cercare di superare le delusioni della vita ok ragazzi se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace a commentare con quale di queste curiosità non sapevate vi invito anche a condividere il video con i vostri amici ad iscrivervi sul mio canale nel caso in cui non lo foste ancora noi ci rivediamo in un prossimo video un bacione e un abbraccio bello a tutti ragazzi